Musica Buonasera a tutti gentili telespettatori, benvenuti ad una nuova edizione del telegiornale di TVRS. Sapriamo ancora con la pandemia, contagi in calo, tasso di incidenza accumulativo su 100.000 abitanti sceso nella nostra regione a 40,70 e percentuale di positività al 4,1%. Quindi a livello di guardia sul fronte della lotta al coronavirus, quindi le notizie sarebbero oltremodo confortanti se non fosse per altri due decessi comunicati oggi dal Gores. Si tratta di un 79enne di Ancona e di una 74enne residente a Macerata, quest'ultima morta presso la residenza Valdaso. Il totale delle vittime arriva quindi a 3.070. I neocontagiati nelle ultime 24 ore sono stati 73, di cui 28 in provincia di Ancona, 14 nel Pesarese, 9 ad Ascoli Piceno, 5 a Fermo e 3 nel Maceratese, dove l'epidemia sembra aver notevolmente rallentato. Leggero aumento invece del numero dei ricoverati, che sono attualmente 81, di cui 20 in terapia intensiva e 23 nei reparti semi-intensivi. E cambiamo ora argomento. Si accelera sulla rivoluzione digitale con la banda larga che raggiunge anche i piccoli centri, grazie alla nuova rete realizzata da Open Fiber. Oggi presso l'azienda Moretti De Sagna Ripa Transone è stato fatto il punto della situazione in tutta la regione. I cantieri aperti fino ad oggi sono 182, quelli chiusi 88. Sentiamo al nostro microfono il presidente Francesco Acquaroli. Nella nostra regione c'è un ritardo congenito che si sta accelerando. Da un anno abbiamo inaugurato circa 60 cantieri finiti. Da un anno, da ottobre 2020 ad oggi, di fatto c'è stata una velocizzazione, ma noi chiediamo ancora più forza e determinazione in questo processo. Un processo determinante in una regione ad altissima vocazione manifatturiera, con una dimensione delle aziende piccole, che molto spesso sono costrette a ricorrere ai propri professionisti o a sedi secondarie per poter comunicare con tutto il resto d'Italia, d'Europa e del mondo. Credo che se noi vogliamo veramente rilanciare il nostro paese, dobbiamo essere presenti e vicini a questi processi di innovazione, indispensabili per tornare ad essere competitivi e per innescare un processo dove le nostre imprese, i nostri professionisti, i nostri giovani, siano all'altezza dei tempi che verranno. Cioè oggi le connessioni sono come portare in ogni comune un'autostrada, l'autostrada che ci rende percorribili e raggiungibili da tutto il mondo. Quando noi non riusciamo ad essere raggiungibili nell'economia digitale, significa che noi siamo tagliati fuori da tutto un sistema, un circuito di globalizzazione digitale che di fatto è un fattore molto importante anche in termini percentuali economiche. Sulle infrastrutture per così dire tradizionali invece quali sono le priorità? Stiamo lavorando tantissimo sulla orte falconara, la regna ferroviaria, stiamo lavorando tantissimo su un'altra incompiuta storica, la Fano Grosseto, c'è la galleria La Quinza che è stata iniziata 30 anni fa, completata ma ancora non fruibile, poi come succede spesso in Italia basta una norma che cambia e un'infrastruttura finita diventa un'infrastruttura non utilizzabile. Noi dobbiamo dare delle risposte perché la competitività, la connessione tra territori non significa solo maggiore fruibilità, ma anche maggiore capacità di disegnare proiezioni futuri che ci permettono e ci rendono competitivi nel medio e lungo termine. Noi non possiamo più aspettare perché l'isolazionismo che viviamo determina processi come la delocalizzazione di tante imprese, lo spopolamento delle aree interne e soprattutto una perdita di attrattività nei confronti dei capitali e degli investimenti che penalizzano alla lunga, alla lunghissima, quello che è un modello marchigiano italiano che aveva conquistato, seppur in una piccola dimensione come quella che viviamo, i mercati mondiali. E dall'importanza fondamentale delle infrastrutture anche digitali per la nostra regione passiamo alla pagina dedicata alla cronaca. Si è concluso nella notte l'intervento di recupero di un uomo di San Benedetto del Tronto che nel tardo pomeriggio di ieri ha allertato il 112 dopo aver perso il sentiero scendendo con il suo cagnolino da Pizzo di Sevo sui monti della Laga tra Lazio ed Abruzzo. Una squadra di terra della stazione di Ascoli Piceno della Soccorso Alpino e Spelologico ha raggiunto in poco tempo la zona ed ha iniziato le ricerche. Nonostante le coordinate, la zona impervia non ha reso facile la sua individuazione che ha richiesto del tempo ed un costante contatto con i tecnici che da remoto seguivano la posizione della squadra. L'escursionista è stato infine recuperato e riaccompagnato alla propria auto. Le sue condizioni sanitarie non destano preoccupazioni. Un 42enne pakistano colleziona il terzo arresto in sei anni. Il reato è sempre lo stesso, spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri mentre usciva di casa e dalla vista dei militari ha provato a darsela a gambe. Raggiunto verso la zona cerqueto di Corridonia è stato sorpreso con un bilancino di precisione e sono stati recuperati 15 grammi di eroina che aveva lasciato per strada. Nel frattempo dagli accertamenti eseguiti è emerso che il pusher era anche percettore del reddito di cittadinanza. Il sostegno economico, come da prassi, in questi casi vi è stato ovviamente revocato. E nel Piceno sono state ore molto travagliate sulla fronte degli incendi. Ieri il primo rogo nei pressi di Venarotta, domato solo nella notte. Vediamo le immagini nel servizio curato per noi da Mario Larocca. Il resoconto dei danni è stato piuttosto limitato, ma soltanto grazie al provvidenziale intervento dei vigili del fuoco e degli elicotteri che hanno evitato il propagarsi delle fiamme. L'incendio, divampato ieri pomeriggio alle porte di Ascoli Piceno e precisamente a Vallorano, località nei pressi di Venarotta, aveva inizialmente restato grandi preoccupazioni. Il rogo, scoppiato per causa in corso di accertamento, aveva iniziato ad inghiottire piante e vegetazione e si stava pericolosamente avvicinando ad alcune abitazioni e a diversi ricoveri di animali. Immediato l'intervento dei pompieri e soprattutto i lanci effettuati dai Canadair, hanno circoscritto l'incendio formando una sorta di cordone di protezione nei confronti delle case circostanti, una sola delle quali è stata evacuata ma a scopo meramente precauzionale. Anche tutti gli animali sono stati tratti in salvo. L'azione di Bonifica comunque si è esaurita solo a tartanotte per spegnere anche i più piccoli focolai ed evitare che le fiamme potessero riprendere vigore. E probabilmente relativamente a questo fatto è stato anche individuato il responsabile un agricoltore della zona che stava bruciando delle sterpaglie. E ci spostiamo di pochi chilometri andando a Morignano, sempre nei pressi di Ascoli Piceno, alle pendici del Monte Ascensione, dove alle sedi questa mattina i vigili del fuoco sono al lavoro per l'incendio di un bosco con 12 unità ed anche qui con l'ausilio di un mezzo aereo. Per il momento non si segnalano danni alle persone, quindi due incendi nel raggio davvero di pochissimi chilometri. Domani, sabato, si celebreranno i 50 anni dalla scoperta delle grotte di Frassassi, una delle più suggestive visitate attrazioni turistiche della nostra regione. Programma di iniziative molto folto ed intenso con la presentazione del cortometraggio diretto dal maestro Vittorio Storaro e l'esibizione del volo sulle note di Ennio Morricone all'interno dello straordinario complesso. L'evento verrà anche ricordato con la ripetizione dell'acrobatica discesa di oltre 110 metri dal bordo del pozzo sino al fondo della grotta. Il gruppo speleologico marchigiano compirà nuovamente il percorso sotterraneo e l'interminabile discesa nei massosi spazi nel tempo ammirati da centinaia di migliaia di persone. Pesaro ha inaugurato oggi l'orologio climatico che ci dice cosa fare dentro quando per salvare la terra dall'emergenza climatica ormai dichiarata. Secondo in Italia, dopo quello installato sulla facciata del Ministero della Transizione Ecologica è già presente nelle maggiori città del mondo, l'orologio è allestito sulla facciata di Palazzo Mosca. Il Climate Clock misura il tempo a disposizione dell'umanità per esaurire il budget di CO2 da emettere in atmosfera prima di oltrepassare la soglia critica e la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. Una buona notizia c'è, se la transizione ecologica sarà immediata si possono ancora mitigare i peggiori mutamenti. Tutta una serie di eventi sulle rotte dell'enogastronomia della nostra regione, ieri a Pintura di Bolognola, presentata Marche Tradizioni in Tavola. Nei ristoranti del territorio verranno presentate le storie delle nostre eccellenze. Sentiamo l'intervista realizzata per noi da Manoli Tascocco. Assessore Marche Tradizioni in Tavola, un progetto finanziato al Bando della Regione, Marche dalla vigna alla tavola. C'è un piano triennale di promozione per il settore agroalimentare, è una grande scommessa. Cercate di mettere tutti nelle condizioni di poter fare un salto di qualità? L'idea era quella di sfruttare la possibilità della promozione agricola con i ristoranti, che è una cosa che non si è mai fatta in passato, di utilizzare la connessione tra chi produce il vino e chi lo vende. Questo collegamento serve per raccontare un territorio, serve ai ristoratori per avere cultura, per conoscere i prodotti, ma serve anche ai produttori per entrare in rapporto di fiducia con i ristoranti. Io credo che questa sia una sinergia virtuosa che noi dobbiamo mettere in piedi. Io vorrei che ci fosse l'orgoglio da parte dei ristoratori, dei camerieri, dei sommelier di vendere i nostri vini e di non avere nelle carte i vini delle altre regioni. Lo dico, sarò di parte, ma io credo che quando ci interroghiamo su cosa possiamo fare per aiutare la nostra economia, cosa possiamo fare per le marche, intanto possiamo comprare i prodotti marchigiani quando facciamo la spesa e possiamo bere i vini marchigiani quando andiamo al ristorante. Questo è già un primo passo. Per farlo bisogna conoscerli, quindi il fatto che ci siano dei progetti come questo, che abbiamo messo in piedi pensando a come aiutare i ristoranti da un lato, gli alberghi e anche i produttori, metterli dentro un contenitore che potesse diventare un elemento di promozione. Perché questo, voi pensate che abbiamo finanziato con questa idea il doppio dei progetti che pensavamo. Quindi 21 progetti che hanno dato vita a 341 microeventi dentro i ristoranti, con il produttore che va, ci mette la faccia, si fa conoscere, il ristoratore che spiega i vini. È qualcosa che è interesse collettivo perché parla delle marche. In più abbiamo messo la possibilità di rendicontare i budget pubblicitari anche dei social media e quindi diventa un moltiplicatore di comunicazione che parla delle marche. Io credo che noi dobbiamo recuperare anni persi nella comunicazione del territorio attraverso i vini e creare come indirizzo, quella che è la nostra strategia, un enoturismo qualificato che sapremmo mettere in campo mettendo insieme tutte le competenze, le sapienze, la formazione, chi fa la sommelier, chi fa il ristoratore, chi fa il barista, il cameriere. Deve sapere che il vino è un elemento di comunicazione che serve a tutti. Partire dalla montagna, da questa montagna non è casuale. Il posto qui è straordinario e invito tutti alla Bolognola perché è davvero un posto straordinario. E a proposito di appuntamenti vi ricordo che in questo fine settimana in programma Metelis a Matelica tutta una serie di iniziative in uno dei borghi sicuramente più suggestivi della nostra regione. Il programma sul sito metelis.it. E siamo allo sport con un po' tutti i campionati che si mettono in moto in questo fine settimana. Sarà la volta della serie di basket, ne parleremo diffusamente, e dei tornei dilettantistici di calcio di prima e seconda categoria che attesissimi tornano dopo un anno e mezzo di stop ed è un segnale davvero importante dell'auspicata normalità. Ad aprire il weekend però, come ormai capita spesso, è l'Ascoli nel match club di serie B al Del Duca contro il Brescia e non può essere definito che così, visto che si affrontano le compagine attualmente al secondo e dal terzo posto in classifica. Alcune assenze pesanti per mister Sottil, che ha convocato 23 giocatori al forfea di Saric, che non ha ancora recuperato dall'infortuna alla caviglia, si aggiunge quello del difensore Avlonitis, influenzato. Torna invece Salvi, assente ad Alessandria. Vediamo invece nel nostro servizio il programma delle gare in Serie C ed in Serie D. Tutta la Serie C in campo sabato pomeriggio, considerando che poi martedì si tornerà a giocare per il primo turno infrasettimanale. Sarà una tripla sfida a Marche Toscana con Ancona Matelica e Fermana ad aprire alle 14. 14.30. Attesa per la prima di Giancarlo Riolfo sulla panchina dei Canarini, compito difficile quello che attende il tecnico Ligure, che deve risollevare una squadra con un punto in quattro partite, reduce da una clamorosa scopola interna subita con il Modena. Cambierà il modulo e forse anche qualche protagonista nel match che la vedrà impegnata Carrara contro un avversario guidato da Totò Di Natale, insidioso e che forse ha raccolto meno di quanto preventivato. Alla stessa ora, secondo confronto interno consecutivo per i Dorici contro la Lucchese, classifica molto confortante, non altrettanto il report dall'infermeria davvero molto affollata e con gli ultimi ingressi di Papa e Delcarro che non potranno essere utilizzati da mister Colavitto. L'entusiasmo però sta diventando contagioso e dal Delconero saranno circa in 2.500 a sostenere i Biancorossi. Alle 17.30 invece, dopo il vittorioso blitz di Teramo, torna il Benelli-Lavispesero per un match contro la Pistoiese che si ripropone dopo 30 anni. Tonso, Besea, Marcandella e Di Sabatino sono costretti al forfè ma Mister Banchini farà affidamento sulla grande verve di carattere mostrato nella doppia trasferta abruzzese. Secondo turno invece in D dove saranno i box San Benedettese e Recanatese e finalmente qualcosa si muove sul fronte della costruzione della nuova squadra rosso-blu. Derby inedito a Castelfidardo dove i Biancoverdi ricevono il Porto d'Ascoli, due compagini rinfrancate dai successi ottenuti all'esordio. Molto impegnativo è il compito che attende il Montegiorgio che riceve una delle favorite, il Pineto, mentre test molto indicativo per il Lafano a Castelnuovo-Vomano. Ed intanto San Benedettese e Recanatese si giocherà mercoledì 6 ottobre. Terzo turno di campionato invece in eccellenza dove spicca un derby di grandissima tradizione è disputato a livelli molto più alti sino alla C2, quello tra Iesina e Vigor Senigali Alcarotti. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno e si profila domenica una sfida interessante ed incerta. Le altre capoliste invece sono impegnate in casa, l'Atletico Azzurra Colli con il Grottamare, mentre il Marina con il San Marco Servigliano. In trasferta invece il Montefano sul terreno della Forza Empronese ed il Val di Chienti Ponte con l'Atletico Ascoli. Come detto nel basket parte la Serie A e per la Carpegna Prosciutto domenica alle 18 l'esordio sarà a Sassari contro un Banco Sardegna quotatissimo. Probabile l'arrivo di rinforzi in Casa Biancorossa ed in particolare nel ruolo di playmaker. Ieri intanto il Vernissagia Fanano di Gradara, ospiti della famiglia Ranocchi, il servizio curato per noi da Camilla Cataldo. La stagione della Carpegna Prosciutto è iniziata ieri a Villa Matarazzo, Fanano di Gradara. Nella storica e bellissima dimora della famiglia Ranocchi, davanti alle autorità, istituzioni e sponsor, è stata presentata la squadra biancorossa, rinnovata e carica, consapevole di dover crescere e combattere in una Serie A dura ed equilibrata come non mai. Archiviata la Supercoppa, un esordio non certo memorabile nei quarti con Venezia, si pensa al campionato che per Delfino e compagni parte domenica 26 settembre a Sassari. La prima in casa sarà il 6 ottobre con Trieste e ci si vuole arrivare pronti e collaudati. Intanto si rivedono i sorrisi, così come il pubblico al Palace, il viatico migliore per un ritorno alla normalità lungamente atteso. Per fortuna che il precampionato è finito perché è stato un precampionato molto complicato dal punto di vista logistico. Come sapete abbiamo fatto un ritiro in posti bellissimi e super organizzati a Carpegna e a Borgopaccia e Lamoli. Purtroppo avevamo una rosa di 7 titolari durante il ritiro perché sapete che Davide ha dovuto sopportare la quarantena del Covid, Tyreek ha accettato la nostra proposta a fine ritiro in pratica quando ha finito le Summer League e Gora era impegnato con la Virtus che detiene i diritti che poi ci sono stati prestati. Dopo lì per una serie di contingenze, il calendario della Supercoppa che non prevedeva partite per noi, l'impossibilità di giocare partite in zona, siamo stati costretti a viaggiare e a portare addirittura fuori dall'Italia, quindi tante ore di pullman, tanti amiche mori ravvicinate, pochi allenamenti per amalgamare la squadra e siamo arrivati a queste Final 8 di Supercoppa con poco lavoro sulle gambe e tanta stanchezza. Per fortuna è finita, adesso bisogna assolutamente ricaricarsi e lavorare nei prossimi 10 mesi con grande determinazione per superare questo inizio difficile. Qual è il livello di questa Serie A per quello che hai visto e quali i vostri obiettivi? Quasi ogni anno gli addetti ai lavori quando si incontrano, ripetono, quest'anno il livello più alto dell'anno scorso, sembra quasi un modo di dire al quale non tutti credono veramente. Quest'anno lo stiamo dicendo tutti con grande convinzione. Perché? Perché la sfida ha il vertice tra i due top team entrambi da Eurolega a livello di budget, anche se solo Milano la gioca perché la Virtus non ha ancora il diritto di farlo e spera di poterla giocare in futuro vincendo l'Eurocup, quindi sono due team profondissimi con tantissimo talento e con due straordinari allenatori come Ettore Massina e Sergio Scariolo. Il livello più alto rispetto al passato di questi top team hanno trascinato dietro tutte le altre a cominciare da Venezia e sono veramente di alto livello anche le due neopromosse perché Tortona è la realtà di una piccola provincia, è una realtà nuova per la palacanestro italiana ma il proprietario di Tortona è uno dei gruppi industriali più importanti del mondo. Napoli ha dietro la passione e l'imprenditoria napoletana, quindi abbiamo due nuove squadre che hanno alzato ancora il livello. Si comincia da Sassari, è una squadra già rodata e al completo. Sì, è una squadra che ha avuto le sue difficoltà, ha avuto qualche giocatore da dover inserire, da dover amalgamare perché Logan è una novità a metà perché è il giocatore più esperto della Serie A ed è già stato a Sassari ma Clemmons e Battle sono due americani nuovi per il nostro campionato e soprattutto il rapporto tra questi esterni e Mekolovu che l'anno scorso a Treviso è stato nella seconda parte della stagione forse il pivot più forte d'Italia ha avuto questo periodo di gloria grazie al feeling che aveva con Matteo Imbrò e Russell, i due playmaker di Sassari. Questo è un feeling che a Sassari deve ancora costruirsi però hanno delle certezze che sono l'energia e l'intensità di Barner, la precisione e l'intelligenza tattica di Benjus, la stessa cosa di Gentile, quindi è una squadra che ha ambizioni veramente molto alte ed è un inizio difficile ma sappiamo che dovremmo lavorare tanto per passare attraverso le difficoltà e poi prendere le nostre soddisfazioni. Davide Moretti, per te la prima esperienza alla VL, appena arrivato hai subito preso il Covid, adesso come stai? Sto bene, grazie, mi sono ripreso in queste tre settimane ormai che sono con la squadra quindi non sono ancora al 100% della forma però piano piano sono sicuro che tornerò ai livelli di quest'estate quindi sono contento di essere qua e di lavorare con i compagni. Il precampionato è stato lungo e pieno di viaggi, è terminato con la Supercoppa, diciamo non benissimo quella manifestazione, è un tuo bilancio complessivo di questa prestagione? È un bilancio che comunque ci deve far pensare, ci deve far comunque capire a che livello siamo in questo momento. Dopo la falsa partenza di Casalecchio quanto siete carichi per questo inizio e cosa ti aspetti dalla prima trasferta di Sassari? Siamo molto carichi, stiamo lavorando duramente quindi sono sicuro che il fatto di dare il 100% anche parlando tra di noi deve essere un must e quindi sono abbastanza convinto del fatto che andremo a Sassari e lotteremo fino alla fine. Scendendo in Bila, Sutor Montegranaro ha annunciato che giocherà le prime partite di campionato a Porto San Giorgio stante la parziale inagibilità del proprio palazzetto con la sola fruizione del piano terra che ridurrebbe la capienza ad appena 83 spettatori mentre il minimo previsto dalle norme federali è di 400. Vediamo ora le previsioni meteo per sabato 25 settembre. Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo, previsione per la giornata di sabato quando un campo di alta pressione ancora abbraccerà l'Italia e l'Europa orientale. Ma osservate questo minimo depressionario dalla Francia, il lento movimento verso la Svizzera, la Germania ma transiterà domenica anche sulle nostre regioni settentrionali. Nel dettaglio possiamo osservare una bella giornata con cieli sereni o poco nuvolosi ma inizieranno ad aumentare le nubi dal pomeriggio da prima a Liguria e poi entro la serata anche Piemonte con piogge in arrivo. Nel dettaglio una giornata di sabato prettamente estiva sulla nostra penisola con ampi spazi di cielo sereno massime fino a 30 gradi sulle centrali tirreniche. Poi dalla serata attenzione all'inubinamento sulla Liguria, sul Piemonte con piogge che nel corso di domenica interesseranno tutta la Toscana e le nostre regioni nord-occidentali. Seguite gli ulteriori approfondimenti scaricando l'app di Trevi Meteo. Ancora a pallacanestro prima di chiudere non ce l'ha fatta la Luciana Moscone Ancona che oggi nella gara inaugurale dei quarti di finale di Supercoppa di Serie B è stata abbattuta a Lignano-Sabbiadoro da Faenza per 61 a 57. Nonostante un buon primo tempo chiuso in vantaggio 32 a 22. Cent'anni 16 punti, Quarissa 13 e Pozzetti 11. Non sono stati sufficienti ad arginare il ritorno dei romagnoli che hanno piazzato un break di 19 a 8 nell'ultimo periodo. Con questo è tutto per il nostro telegiornale. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon weekend.